Io ho bimbi piccoli e anche qualche piccolo animale domestico e l'idea di dover utilizzare dei topicidi mi ha sempre preoccupato quindi la possibilità di utilizzare un prodotto naturale che sia efficace e che sia stato testato da me e quindi di cui conosco effettivamente i risultati positivi mi tranquillizza moltissimo Scappa Topo, il biorepellente organico che tiene lontano i topi Grazie